Marcon è una fichissima, un cinese, un albanese e un negro. Il negro dice... Scusa, Bruno, c'ho un appuntamento. Davvero, c'ho un appuntamento. Un succo di frutta? Tesoro, un cinese, un albanese e un negro. Il negro dice... Pronto, mamma! Un caffè? Andre, un cinese, un albanese e un negro. Sto negro dice... Luca, scusa, Bruno. Luca, ti devo far andare. E cos'è che dici il negro? Non c'è che cosa? Non c'è che cosa dolore? Non c'è che cosa dolore, non predicò? E quel modo, n'è? Non c'è, invece. Non c'è. Non c'è quella... Non c'è quella...